Con quasi 1.500 partecipanti provenienti da tutta Italia, si è svolto sabato a Napoli il Forum dei Beni Comuni, la grande assemblea pubblica organizzata dalla Giunta dei Magistris per un confronto trasversale sui nuovi modelli di amministrazione e di governo della cosa pubblica, fondati sul riconoscimento, anche giuridico, della nozione di bene comune, cioè dell'esistenza di cose materiali come l'acqua oppure astratte come la conoscenza che per principio vanno sottratte alla disciplina del mercato e dichiarate disponibili liberamente per tutti. Al Forum erano presenti rappresentanti istituzionali di 104 comuni, tre ambasciate, decine di associazioni, fondazioni e centri sociali. I quattro tavoli di lavoro fra il Maschio Angioino e Palazzo San Giacomo hanno visto la partecipazione attiva di 1.200 persone per il 40% donne e hanno prodotto documenti di proposta politica che saranno presto disponibili sul sito del Forum. Un buon successo anche per la tavola rotonda finale al Teatro Politeama, cui hanno preso parte i sindaci De Magistris, Zedda e Emiliano e il presidente di SEL, Niki Vendola. Grazie alla diretta streaming sul portale municipale, la giornata del Forum è stata seguita via internet da migliaia di spettatori, mentre il sito del Forum ha contato oltre 15.000 accessi.